Giovani principi. William e Harry. Oggi sembrano trovarsi a mondi di distanza. Ma c'è un legame indissolubile che li unisce e che risale a una figura straordinaria. La loro madre, Diana. La principessa del popolo. Una madre che, con immensa determinazione, ha cercato di offrire loro un'infanzia quanto più normale. Lontana dalle ombre di Buckingham Palace. Le risate, le avventure spensierate, le esperienze comuni sono diventate parte integrante di quel bagaglio d'amore che Diana ha voluto per loro. E adesso? I fratelli Windsor cercano di trasmettere ai propri figli quell'insegnamento prezioso. In particolare, gli occhi sono puntati su George, il giovane erede al trono, che sogna in grande, mentre cresce circondato da un mondo di privilegi e opportunità uniche. Immaginatelo sugli spalti durante una partita dell'Aston Villa, accanto a papà William, mentre il calcio diventa una delle sue passioni ardenti. Ho sentite le note di una canzone di Taylor Swift. Amate tanto da lui, quanto dalla sorella Charlotte. E c'è di più, la sua abilità nel disegno. Un talento tramandato dal nonno Carlo. Ha sorpreso, ed eliziato il pubblico, quando i suoi genitori hanno condiviso il suo lavoro sui social media. Ma aspettate, c'è un'ultima sorpresa. Con 11 anni appena compiuti il 22 luglio, George ha già le idee chiarissime su come vuole vivere la sua infanzia. Non solo desidera coltivare le sue passioni, ma ha anche un'ambizione nascosta. Una voglia impetuosa di esplorare nuove esperienze, aprendo orizzonti ancora sconosciuti. Questo viaggio di scoperta è solo all'inizio. Chissà quale sarà la prossima tappa da percorrere per il piccolo principe. Grazie.